38.000 assunzioni, questi numeri finora della Buona Scuola, il provvedimento del governo Renzi, sulle assunzioni dei precari. Di queste 29.000 ad agosto e le restanti attraverso la cosiddetta fase B, che si concretizza in una proposta di assunzione per la quale ci sono 10 giorni di tempo entro i quali dare una risposta. Come annunciato dal Ministero, circa 29.000 docenti sono subentrati col turnover e dunque non si sono spostati. Per altri 7.000 invece si è attivata una mobilità consistente che, come si ricorderà, ha fatto gridare persino alla deportazione dal mezzogiorno verso il nord della penisola. Nel frattempo il sole 24 ore ha tracciato una sorta di identikit dei docenti immessi in ruolo. Quasi il 90% del totale sono donne per la maggior parte di età inferiore ai 40 anni. Consistente anche la fascia anagrafica che va dai 41 ai 50 anni di età, a testimonianza di un lungo periodo di precariato. Fin qui i numeri relativi alle fasi A e B immaginate dal governo. Nel frattempo ci si prepara lo step successivo, la fase C, che prevede assunzioni fra novembre e dicembre. Andiamo a vedere in dettaglio i posti disponibili, che sono poco più di 55.000. Di questi circa 18.000 saranno assegnate alla primaria, 7.000 alla secondaria di primo grado e 23.000 alle superiori. Altri 6.000 invece sono destinati al potenziamento. Come da tradizione, la regione dove c'è maggiore richiesta di docenti e la Lombardia 8.000. Buone speranze però anche in Campania con 6.000 posizioni aperte. A seguire il Lazio con poco più di 5.000, stessa cifra della Sicilia.